Tutti uniti contro la discarica voluta dal commissario Vardea Serroni di Battipaglia, dopo gli abitanti ed i proprietari della vecchia cava aperta negli anni 60 per fornire materiale inerte ai lavori dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, questa mattina si sono mobilitati anche i genitori e i bambini delle scuole che sorgono a poca distanza dal sito. L'unica strada di accesso alla cava infatti passa davanti all'asilo e alle elementari che in ogni caso sono a poche centinaia di metri. Una manifestazione pacifica alla loro per dire no ad una discarica vista come una vera e propria bomba ecologica? Ci sono una serie di fattori tecnici e soprattutto sociali che ci fanno essere convinti che questa scelta sia davvero la peggiore che si potesse fare sul territorio. Quello che abbiamo anche più volte manifestato anche nelle riunioni in provincia è stata proprio l'indisponibilità sociale di quel sito, l'incompatibilità sociale. Oltre che sorgere in una città flagellata, da decenni, da discariche, siti mai bonificati, nasce in un luogo vissuto, in un centro abitato a poche decine di metri da un asilo, a poche centinaia di metri da una scuola elementare, vicino all'ospedale, insomma una serie di concause che ci fanno pensare che malgrado tutte le rassicurazioni possano venire dalla provincia, quello si è un sito in idoneo. Un allarme che è lanciato anche dai genitori dei bambini? Sì, proprio stamattina si è tenuta lì una manifestazione simbolica dove i piccoli studenti della scuola materna hanno manifestato con i loro genitori il loro dissenso rispetto a questa discarica, anche perché l'unica strada che porta alla cava passa proprio davanti alla scuola, quindi quello che potrebbe venire a crearsi è davvero qualcosa di preoccupante.